Melvin Douglas, nato il 5 aprile 1901 a Macon, in Georgia, è emerso come uno degli attori più illustri di Hollywood, guadagnandosi consensi per la sua versatilità e la sua presenza imponente sullo schermo. La sua vita, segnata da successi professionali e prove personali, si è svolta come una storia ricca di sfumature di trionfi e tribolazioni. Douglas, il cui nome di nascita era Melvin Eduard Selberg, iniziò la sua carriera di attore in teatro, facendosi un nome a Broadway negli anni 20. Il suo passaggio a Hollywood negli anni 30 segnò l'inizio di una carriera cinematografica che sarebbe durata diversi decenni. Nel corso degli anni 30 e 40, Douglas si affermò come protagonista in film come Ninochka, 1939, e Ad, 1963, guadagnandosi il plauso della critica e premi prestigiosi. La sua voce distintiva, il suo comportamento soave e la capacità di interpretare i personaggi con profondità hanno contribuito al suo status di attore rispettato nel settore. Nel mezzo del suo successo professionale, Douglas affrontò sfide personali, inclusa la tragica morte della sua prima moglie, Rosalind Hightower, nel 1939. La perdita gettò un'ombra sulla vita personale di Douglas, aggiungendo uno strato di dolore alla sua narrazione. La carriera di Douglas raggiunse nuove vette negli anni 60, un periodo che lo vide vincere due Academy Awards come miglior attore non protagonista, prima per Ad, 1963, e poi per essere lì, 1979. La sua capacità di passare senza problemi dai ruoli drammatici a quelli comici ha messo in mostra la profondità del suo talento. La tragica scomparsa di Ellen Gagan, la seconda moglie dell'attore Melvin Douglas, si è rivelata un capitolo straziante nella vita di Douglas. Ellen, nata il 25 novembre 1900 a Bunton, nel New Jersey, non era solo un'attrice di talento ma anche una figura significativa della politica. La sua vita e la sua morte prematura hanno segnato una profonda perdita sia per l'industria dell'intrattenimento che per l'arena politica. Ellen Gagan ha iniziato la sua carriera come attrice, lasciando il segno a Broadway e successivamente passando a Hollywood negli anni 30. Ha recitato in film importanti come She, 1935, ottenendo consensi per le sue interpretazioni. La bellezza e il talento di Gagan hanno attirato l'attenzione, affermandola come una stella nascente nell'industria cinematografica. Nel 1938, la vita di Ellen Gagan prese una svolta significativa quando sposò Melvin Douglas. L'unione ha riunito due persone profondamente coinvolte nelle arti, Douglas, un attore illustre, e Gagan, anatrice promettente. Il loro matrimonio fiorì sia a livello personale che professionale e la coppia divenne una figura di spicco nella società di Hollywood. Tuttavia, la tragedia colpì nel 1980 quando Ellen Gagan perse la sua battaglia contro il cancro. I dettagli riguardanti il tipo di cancro e la sua progressione sono rimasti relativamente privati, poiché Douglas e la sua famiglia hanno scelto di gestire la questione con un certo grado di discrezione. La morte di Gagan, tuttavia, ha scosso l'industria dell'intrattenimento, derubando il mondo di anatrice di talento e ponendo fine a una storia d'amore che durava da oltre quattro decenni. L'impatto della scomparsa di Gagan su Melvin Douglas è stato senza dubbio profondo. Perdere un compagno di vita dopo più di 40 anni di matrimonio è un dolore inimmaginabile, e il dolore deve essere stato particolarmente acuto per Douglas, che aveva già vissuto la tragica morte della sua prima moglie, Rosalind Eitower, nel 1939. Al di là dei suoi contributi al cinema e alle sue relazioni personali, Ellen Gagan è stata anche una pioniera in politica. Nel 1940, si candidò alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti come democratica, diventando una delle prime donne ad assicurarsi una nomina in un importante partito per un seggio al congresso in California. Nonostante abbia perso le elezioni contro Richard Nixon, la sua carriera politica ha lasciato un segno indelebile. All'indomani della morte di Gagan, Melvin Douglas ha continuato a destreggiarsi tra le complessità della vita e del dolore. La sua duratura carriera nel settore dell'intrattenimento gli ha fornito uno sbocco espressivo e negli anni successivi ha continuato a contribuire al cinema e alla televisione. La tragedia della perdita di Ellen Gagan ha aggiunto un altro strato di dolore alla vita di Melvin Douglas. La sua assenza lasciava un vuoto insostituibile e i ricordi degli anni trascorsi insieme indugiavano nell'ombra della sua narrativa personale. La capacità di Douglas di incanalare il suo dolore nel suo lavoro e di continuare a dare il suo contributo alle arti testimonia la sua resilienza di fronte a una profonda perdita. L'eredità di Ellen Gagan, sia come attrice che come figura politica, rimane intessuta nel tessuto di Hollywood e della storia americana, per sempre legata all'uomo che l'amava profondamente e piangeva la sua prematura scomparsa. Nonostante le tragedie personali, Douglas ha continuato a contribuire all'industria dell'intrattenimento, ottenendo riconoscimenti per le sue interpretazioni in film come La seduzione di Joe Tynan, 1979, e Ghost Story, 1981. La sua carriera duratura e l'impegno per la sua arte gli hanno fatto guadagnare il rispetto di colleghi e fan. Gli ultimi anni di Melvin Douglas furono segnati da problemi di salute e combatté il cancro alla prostata. Nel 1986, all'età di 80 anni, Douglas morì nella sua casa di New York City. La sua morte segnò la fine di una prolifica carriera durata quasi sette decenni. La vita e le storie tristi di Melvin Douglas rivelano un uomo che ha navigato tra gli alti e bassi della fama, dell'amore e della perdita nell'imprevedibile panorama di Hollywood. La sua capacità di trasmettere un'ampia gamma di emozioni sullo schermo rispecchiava la complessità delle sue esperienze. L'eredità dell'attore sopravvive attraverso il segno indelebile che ha lasciato nel mondo dello spettacolo, a testimonianza del suo talento duraturo e della sua resilienza di fronte alle prove personali.